Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei la benedetta tra le donne, benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Grazie a tutti. 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 importante, non di chi porta i tuoi parole e non so che cosa, ma di chi testimonia con il servizio e con la confidenza dei giorni che cosa davvero rende presente, rende visibile, rende trasparente, rende ammirabile la presenza del Regno di Dio. Da questo sapranno che siete i tuoi parole e non so che siete i tuoi parole e non so che siete i tuoi parole e non so che